Ciao a tutti ragazzi da Corrazzunto 9 e bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video di agar.io Non ancora un video cosa sta questo io però vabbè Ok, oggi ragazzi voglio fare su vostro consiglio una cosa un po' più particolare Infatti noi di solito facciamo questo FFA che non so per cosa stia sinceramente Ma possiamo trovare altre modalità, tanto si vede un po' suocato, non vi preoccupate, non siete voi Anch'io vedo un po' suocato, non so perché, vabbè Ma di provare anche teams, dove ci saranno, vedete, verde, blu e rosso E noi saremo una di queste squadre colorate e dobbiamo battere quelli degli altri colori Quindi cominciamo su, ragazzi stavolta facciamo dall'inizio, non registro da tot perché vedo che faccio un certo risultato A parte che ci sto giocando anche meno i 6 giorni Fatalità, prendiamo rosso che quello ho messo a peggio, vabbè, che sfiga Ok, non tanto perché voglio essere facilitato, quanto per riuscire a mangiare qualcuno Perché se tutti gli altri nemici sono più forti, potete capire bene che insomma non è che si faccia un gran che Ecco, speriamo non cominci a lagare un botto, altrimenti non riuscirei a fare un gag Eh, sì ragazzi, questa modalità può sembrare molto simile ma in realtà è molto diversa Perché la cosa più particolare, cioè la cosa più diciamo caratteristica, caratteristica di questa modalità Tu con lì quei caratteri speciali, vabbè È proprio che certe palline, quindi quelle rosse, non si possono mangiare Quindi è una cosa molto brutta, nel senso che a volte ti trovi qualcuno davanti e dici Oh questo lo mangio, no aspetta del mio colore, non posso Quindi cambia molto Poi un'altra cosa che cambia è dato che questo qua ha failato in un modo incredibile Vedete Si comincia a lavorare come un team, perché se è vero che non si possono mangiare tutti È vero che gli altri non possono mangiare, cioè anche altri non possono mangiarti E quando vediamo per esempio due blu con due rossi, quindi nella mia squadra Cerchiamo di collaborare per riuscire a fare una tattica Infatti in questo gioco, sì c'è lo score come vedete in basso Però, però, grande Però ragazzi, vince la leaderboard là a destra Quella cartina a torta, diciamo, quella schema a torta Quel grafico a torta, ecco non mi veniva la parola E quindi ragazzi, bisogna collaborare un pochino Bisogna cercare di essere più uniti possibili Bisogna cercare di avere un piano, perché è vero che più si cresce a se stessi E meglio è un po' per il punteggio, un po' anche per riuscire a mangiare gli altri Un po' più di soddisfazione Questo si sta riunendo, mi mangia Questa è la cosa brutta di iniziare, diciamo, quando si è da soli, diciamo, senza Misio, chi è Misio? Quando si è appunto senza già una prina grande Infatti cominciamo così di solito, perché almeno avevo un po' di garanzie Invece qua vedete ragazzi, basta che uno si unisca, si splitti Ciao ciao, bisogna superare i 500, perché poi Prima di i 500 bisogna davvero essere tanto attenti Vabbè ragazzi, faccio un taglietto, vediamo fino a quando riesco a arrivare E ci vediamo dopo Riprendo un attimo ragazzi, intanto vi dico che sono stato mangiato altre tipo due volte E ecco, adesso facciamo anche tre O no? No? Ci rifugiamo qua in mezzo E volevo dire appunto per il discorso del team Infatti bisogna collaborare anche perché ragazzi Mi ero dimenticato di dirvi, ma era abbastanza, diciamo, capibile da sé Però vabbè Perché? Ovviamente, è vero che c'è il punteggio Ma in alto a destra non c'è la classifica Quindi non è che uno va per puntare, diciamo, la vittoria Qua non c'è appunto una vittoria Quindi, 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 mi frega Via, 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 via Vedete? Questa cosa bisogna speditare per salvarsi È un po' come ricominciare da capo però Sì, 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 ti aiuto amico, ti aiuto No, mi sa che mi mangia lui, quasi, quasi Che fail No, 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 no Ti aminiamo collegato ragazzi, è bello questo duello Tac, qui non mi prendi Tac, qui non mi prendi Dai, vieni qua, vieni, vieni, vieni Ci sta venendo veramente Ah, volevi tu, eh Poi sono paura, vabbè Aiutiamoci amico Vieni con me, ti aiuto Sei un po' più piccolino Non siamo nemmeno a 100 Bisogna fare davvero poco Bisogna puntare sulle massette piccoline Di quelle che sono splittati così a cacchius Little girl No, misio, misio è quello di prima No, 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 no Misio, no Fra verde e blu adesso anche Ma porca miseria No Non riesco a capire perché sono più veloci Questo si è chiamato Agarillo Grand Fantasia Ti voglio bene, davvero No Ok Vabbè ragazzi, faccio un altro taglio Che non è lo splitto, è il taglio proprio Vediamo se è dirt Dert 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 Vabbè no Questo non si sa cosa stia facendo Lo blocco Grande mossa, grande mossa, grande mossa Ti voglio bene Arek che l'hai Proprio fatta da esca Non so cosa stia facendo sinceramente Però vabbè Oh via 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 Rimango collegato perché qua mi sa che mi frega Mamma mia Per poco mi splittavo Arek mi sa che ha perso la connessione perché è lì Non fa niente Oh questo si è proprio lasciato andare Anche questo aveva perso la connessione E va bene ragazzi Aspetto un altro po' Poi ci risentiamo Ritorno subito ragazzi perché qui c'è un casino di roba Veramente ha passato una decina di secondi Se la passava Sì No dai non dimmi che non lo posso prendere È una È una truffa Una truffa Era chiaramente Più piccolo di me Mio Mio Oddio Buona combo Buona combo Buona combo Attenti a quella romania Andiamo a romania Non me lo carmi romania Che fai Oh Grazie Mi ha dato metà del punto Oh Perché è fide più veloce di me Perché fide più veloce di me Non si scherzi eh Non questi scherzi Mamma come sono riuscito a levarmelo Romania però Vaffan L'ho visto Cioè l'ho visto che si è riunito Adesso mi splitta Potevo splittarmi anch'io Mannaggia a me Ah ragazzi Devo dire che a team è ancora più difficile Perché uno Non lo facendo solo per se stesso Risca un po' di più anche mi viene da dire E quindi splitta molto di più E poi non avendo tutti i nemici da Da guardare Sei tu la principale Specialmente Se sei piccolino piccolino Quindi bisogna Tenere d'occhio anche quello Eh protector Vaffan bagno Eri tu che mi ha ucciso Mi ha ucciso Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi Mi dispiace tantissimo Mi dispiace Ma vaffanculo a te Vieni Vici Vici Se c'hai coraggio No Ha rapporto di piccolini Ma non posso prenderli Sì 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 Ti aiuto Ti aiuto amico Vieni qua Vieni qua Te li blocco Te li blocco Te li blocco Eh non posso Oh non mi ha girato Non mi ha girato Avete visto Vabbè ragazzi Scandolo Scommesse qua Scommesse Scommesse Vabbè ragazzi Facendo il taglio E spero di diventare Un po' più grande Comunque i rossi Vedendo lì nella leaderboard Ovviamente i blu Sono molto superiori Comunque i rossi Stanno prendendo i verdi Quindi è una cosa Abbastanza positiva Dai ragazzi Torno a registrare Ragazzi Perché come potete vedere In questa nuova Diciamo leaderboard I verdi Stanno prendendo Un po' più di potere I blu No sinceramente I blu Si sono già rifatti Prima avevamo perso Un po' più di potere Eh ti mando A quel paese Te Non Eh Punto Dis Quindi Vabbè Ok Ho visto qualcuno Devo cercare di fregarlo Non posso Spietarmi Sono troppo debole Per spietarmi Ragazzi Potrei Ma non ho voglia Sinceramente Bulgaria Maledetta Ok Quindi come vedete Ragazzi È così Il risultato Siamo a 166 169 Adesso noi Fuck you red No però Mi senti patico E cos'è Guardate Mi hanno chiuso Non ci credo Avete visto Che roba No vabbè Non è che l'avessero Fatta apposta Mi hanno chiuso In un modo incredibile Non ci voglio Ma avete visto Che tattica E vabbè Poi questi sono I milioni I milioni Immaginate Essere un po' più grandi E fare il colpaccio E mangiare tutto Mamma mia Si diventa goloso Per Agar Si diventa Porca miseria Comunque ragazzi Vi ricordo di spolliciare Lo so che questa serie Non durerà moltissimo Nel senso che adesso Siamo già Ma dai Non poteva mangiarmi Vabbè Siamo ragazzi Questo è il terzo episodio Penso di fare una serie Di 5 episodi Quindi ci saranno Un altro paio Per la gioia di qualcuno Per la gioia di tanti altri Cioè in senso Qualcuno piaceva Ma a qualcuno anche Diciamo Preferiva qualcos'altro Ovviamente Evito comunque A supportarla Ragazzi E spolliciare Mi raccomando Ehm Ehm Ma dovrei vedere Gli ultimi due episodi Che magari Comincerò anche Quelli dall'inizio Facendo anche L'esperimentale Che ho visto Che c'è Non so cosa sia Quindi Vedremo insieme Ehm Mi raccomando ragazzi Siamo superata la serie A volte può diventare Un po' monotono Avete ragione Però Adesso per esempio Vi ho provato Questa modalità team Quindi Ci sta L'innovazione Ecco qua Ho sprecato lo split Per dire Volevo fare una cosetta Invece niente Dai te lo blocco Te lo blocco Oh l'ho mangiato Grande Sì Non bloccarmi Ok Ehm Ancora sto fuck Basta 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 Grande Avete visto ragazzi No questa merita Un like ragazzi Ma quando ho un like Per questa mossa Incredibile L'ho scartato L'ho fatto mangiare All'altro Così impara Derp Impari così Mannaggia Mamma mia Ad una più leggera Ad un altro più Pesante Quindi uno va più veloce Incredibile Questa cosa Va bene Adesso non so Quanti minuti saremo Ma comunque Ho anche un po' tagliato Quindi adesso Vedremo Quanti minuti sto E magari faccio un taglio Così do anche un'occhiata Al tempo E ci vediamo Fra pochissimo Ok Ecco Per tornare Alla registrazione Ho perso Che bello Vabbè Siamo 10 minuti Abbiamo passato 10 minuti Quindi ragazzi Vi invito Ancora una volta A spoliciare Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale Se l'avete ancora fatto A commentare Appunto Scrivendomi Se vi è piaciuto Questa serie Adesso ovviamente Ci saranno altri due episodi Qui mi chiudono Mi chiudono Non mi chiudono Magari faremo un po' di sperimentali E poi magari l'ultimo L'episodio finale Ehm Sperimentali Sinceramente Non so Quale sia La differenza Boh Veramente Non so Quale potrebbe essere Boh Perché non era competitivo L'altro Forse o si Boh Vabbè Comunque Guardate ragazzi Rossi Sono sempre Messi peggio Veramente Che tristezza Protector Ancora tu Vai a farti una vita Che sei qua da un'ora Beh Sinceramente Anch'io sto registrando Da 10 minuti Come avete visto Però Protector Sicuramente Dei più Per essere così grosso Vabbè Sinceramente Questo è un gioco Ververo carino Se posso permettermi Non si gioca Gocando così tanto Sinceramente Il primo giorno Che l'avevo scoperto Ci ho giocato un bel po' Ma poi non ci ho più giocato tanto Però Devo dire Infatti Vi ricordate I primi giorni In cui Registravo Che avevo già Un toti di punteggio Però Appunto perché Ci stavo giocando abbastanza Non ci gioca neanche più Gioco solo per registrare E Ma comunque Un gioco carino Ve lo consiglio Mannaggia Se non l'ho mangiato Mio No 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 Volevo finire in bellezza Invece ragazzi Finisco male Ci finisco male Vabbè ragazzi Io vi ringrazio ancora tantissimo Non vi preoccupate Che domani Arriverà Un video Beh Di una zooma Sempre la sera Mentre domani Arriverà un video Un po' Di news E Mi farò Delle domande speciali Tanto come non ho mangiato Vabbè Qui ragazzi State aggiornati Perché domani alle 3 Si suate alle 13 Quindi a luna Ci sarà Un video dove Dovete venire tutti Perché è molto importante E dovete commentare Poi Minecraft E poi si vedrà Ok Io vi saluto ragazzi Vi ringrazio Di sopravvisione Un saluto a tutti A vostro coraggio Ciao ciao